C'è oggi su Scientific Reports un nuovo studio che affronta l'acceso dibattito su quali siano le relazioni tra i principali gruppi di dinosauri, cioè ornitischi, sauropodomorfi e teropodi, e affronta la questione più su un'analisi prettamente matematica per vedere quanto sono robuste le diverse ipotesi che si contendono il ruolo di descrizione delle relazioni tra dinosauri. Prima di affrontare quindi questo studio di oggi, pubblicato da Cerni, spero di averlo pronunciato bene, Simonoff su Scientific Reports, un brevissimo riassunto di quali sono i temi che sono discussi sulle relazioni tra i dinosauri. Fondamentalmente si riconoscono tre gruppi principali dentro dinosauri, che sono ornitischia, sauropodomorfa e teropoda. Non tutte le specie note rientrano con certezza dentro questi gruppi, in particolare le forme triassiche a volte non è chiarissimo se siano rappresentanti primitivi del gruppo o siano già membri di uno di questi tre rami. A questa confusione triassica si aggiungono ad esempio i problematici silesauridi, che potrebbero essere parenti prossimi di dinosauri, o semplicemente una forma molto bizzarra e primitiva di ornitischio. E quindi si contendono diversi scenari, comunque escludendo per un attimo la discussione delle relazioni tra le forme più problematiche ed enigmatiche, limitandosi ai tre gruppi principali consolidati, si discutono fondamentalmente in letteratura tre scenari, che poi sono effettivamente le tre possibili alternative, combinando i rami. La classica più nota è l'ipotesi di Saurischia, cioè che sauropodomorfa e teropoda siano più strettamente imparentati tra loro rispetto agli ornitischi. E poi c'è un'ipotesi, che forse è quella meno nota al grande pubblico, che fu discussa per la prima volta negli anni Ottanta, che è fitodinosauria o ornitischiformes. Ci sono due nomi contendenti per questa ipotesi. Mi pare di ricordare che fitodinosauria fu proposta da Becker nell'Ottantasei, ma un anno prima Cooper nominò questo clade ornitischiformes, il quale sarebbe composto da ornitischi e sauropodomorfi e quindi ad esclusione dei teropodi. E poi c'è la recente ipotesi di ornitoscellida. Ricordo che il nome ornitoscellida fu coniato nell'Ottocento per una diversa ipotesi, non è questa, però gli autori Barron ed altri nel 2017 ripresero questo nome ottocentesco per battezzare il possibile nodo che collega ornitischi e teropodi ad esclusione dei sauropodomorfi. Quindi le tre ipotesi principali che si discutono sono appunto Saurischia, ornitischiformes o anche fitodinosauria, potremmo usare un nome o l'altro, oppure ornitoscellida. Gli autori di questo nuovo studio hanno preso la matrice utilizzata, cioè i dati utilizzati da Barron e Tal nel 2017 a supporto di ornitoscellida e un'analisi che è stata fatta modificando questi dati da autori successivi e hanno confrontato questi due scenari alternativi, ma soprattutto hanno misurato statisticamente se e quanto i tre diversi scenari alternativi che vedete qui siano effettivamente discriminabili con i dati utilizzati per queste analisi. Ovvero, chiariamo un po' la questione, com'è che si distinguono degli scenari? Normalmente si ricostruiscono questi scenari usando degli algoritmi i quali analizzano i dati e cercano di trovare l'albero che spiega meglio i dati a disposizione. Ad esempio ci sono dei metodi che contano quanti eventi evolutivi sono necessari per spiegare la diversità nel campione analizzato e scelgono l'albero più breve, più corto che spiega tale ipotesi. Oppure si usano dei metodi un pochettino più raffinati che non contano semplicemente il numero di eventi ma fanno tutta una serie di calcoli di probabilità e scelgono l'albero che ha la maggiore probabilità di descrivere i dati in questo caso. Ecco che quindi si ottengono degli alberi dall'analisi di questi dati usando questi metodi. Ma ci sono appunto le alternative. Come possiamo stabilire se un'alternativa è sì, non il risultato migliore che abbiamo ottenuto ma non per questo scartabile ovvero il semplice fatto che un risultato mettiamo al caso che noi abbiamo ottenuto Saurischia mettiamo che è stato con il metodo che abbiamo utilizzato possiamo dare un certo punteggio a questo risultato che ci dà la robustezza di questa ipotesi. Ammettiamo che però la stessa analisi con gli stessi dati possa eventualmente produrre fitodinosauri con un punteggio leggermente peggiore ma appunto non troppo peggiore e quindi da un certo punto di vista statistico sorge il dubbio che sì, è vero Saurischia vince in questo tipo di analisi ma lo scarto tra le due è talmente minimo che dal punto di vista statistico sorge il dubbio che sia semplicemente un effetto del caso. Cosa vuol dire un effetto del caso? Beh immaginiamo che ad esempio non abbiamo tutti gli animali analizzati completi al 100% alcuni sono frammentari anzi la maggioranza lo sono soprattutto per matrici di grandi dimensioni e quindi ci sono un sacco di vuoti, di buchi nei dati che abbiamo a disposizione. Ecco che noi possiamo fare delle analisi statistiche che ci dicono che soltanto l'effetto di questi vuoti, di questi buchi può produrre per caso la vittoria di uno scenario in questo caso Saurischia rispetto all'altro oppure può risultare che i due risultati differiscano per leggere differenze di caratteri per cui questi caratteri però sono talmente variabili che anche in questo caso non si può escludere che aggiungendo, togliendo una nuova scoperta dal medesimo set di dati si ottenga, in questo caso Fido Dinosauri al posto di Saurischia. Quindi gli autori hanno fatto una serie di analisi statistiche per vedere quanto la robustezza di questi scenari ci permetta di dire sì, abbiamo ottenuto uno scenario e lo teniamo come valido e gli altri li scartiamo perché sono troppo deboli con quei dati per essere considerati delle alternative plausibili. Ora, gli autori hanno usato tutta una serie di metodi statistici abbastanza complicati non sto qua a parlare di questo tipo di metodologia quello che conta è il risultato il risultato di queste analisi è che al netto delle due matrici analizzate non è possibile discriminare una opzione migliore delle altre ovvero piccole variazioni che possono essere aver codificato male un dato non aver delle informazioni per una particolare fossile aver scelto di aggiungere una specie rispetto a un'altra incidono in maniera importante sul risultato e impattano su questo risultato quindi non è possibile ad oggi con questi dati utilizzati per queste analisi discriminare in maniera definitiva i tre scenari ovvero non è detto che sia valido Saurischia oppure Ornitoscelida oppure Ornitisciforms addirittura potrebbero addirittura essere valide gli scenari che rendono quasi difficile utilizzare questi nomi io non sono sorpreso da questo risultato perché lo vedo con la mia analisi che studia l'evoluzione dei teoropodi alla base dell'albero che io sto assemblando ormai da vent'anni ci sono anche Ornitischi primitivi e Sauropodomorfi primitivi e dinosauri dinosauri formi triassici quindi ci sono tutti quei i gruppi che sono contesi nella discussione tra questi diversi scenari e ho notato che a volte è sufficiente togliere o mettere una specie togliere o mettere un singolo carattere e l'albero cambia e prima avevi Saurischia e dopo hai ad esempio Ornitoscelida e queste differenze sono così piccole e marginali che mi fanno concludere che non abbiamo ancora raggiunto quella robustezza di informazioni per poter concludere che effettivamente stiamo raggiungendo una soluzione cosa vuol dire questo? e c'è ancora molto da fare da studiare ci sono nuove specie da trovare nuovi esemplari da coprire ma soprattutto c'è da ridefinire il modo con cui noi abbiamo fatto queste analisi ad esempio dobbiamo trovare dei criteri più oggettivi per descrivere e definire le caratteristiche significative per questo tipo di analisi dobbiamo anche trovare dei modi più eleganti e più sofisticati per differenziare la variabilità che noi osserviamo nel campione eccetera insomma quello che conclude questo studio è che io avevo come dire raggiunto indipendentemente analizzando i dati della mia matrice sull'evoluzione dei teropodi e in generale delle relazioni a larga scala dei dinosauri è che effettivamente sì i metodi filogenetici sono strumenti fondamentali per risolvere le questioni sulla storia evolutiva di un gruppo fossile ma è necessario raffinare questi metodi raffinarli sia nel modo con cui campioniamo il dato ma anche raffinare il nostro modo di interpretare questi risultati ad esempio elementi che in questo caso non sono stati presi in costellazione ma che possono incidere sono ad esempio l'impatto dello stadio di crescita delle specie analizzate nel risultato delle analisi molti degli esemplari che vengono inseriti in queste analisi che rappresentano specie sono esemplari immaturi a volte l'unico esemplare a disposizione di una specie è un esemplare giovane e non è chiarissimo se e quanto lo stadio giovanile della specie in questione sia indicativa di tutte le caratteristiche della specie dello stadio adulto di quella specie ecco che quindi inserire una specie soltanto conoscendo gli esemplari immaturi può correre il rischio di creare delle relazioni evolutive sbagliate perché ad esempio può capitare che in certi gruppi gli esemplari allo stadio giovanile mostrano condizioni tipiche dei precursori di quel gruppo e quindi falsano dando l'illusione che quella specie sia più primitiva di quanto effettivamente sia quindi in conclusione questo studio rafforza una cautela che dobbiamo prendere nell'affermare le relazioni tra dinosauri e ci invita a continuare nelle ricerche perché è necessario continuare ad aggiungere dati informazioni e raffinare metodi sinceramente io ritengo che al di là delle questioni squisitamente matematiche di metodo e di algoritmi utilizzati noi dobbiamo cercare altri fossili dobbiamo cercare nel riassico dobbiamo cercare rappresentanti primitivi dei vari gruppi dobbiamo vedere se ci sono dei fossili nuovi che ci aiutano a colmare i vuoti i gap nelle relazioni evolutive perché vedete che ad oggi è sufficiente cambiare pochissimi dati e scegliere un particolare strumento analitico qualche software al posto di un altro e si ottiene un albero oppure un altro completamente diverso quindi dobbiamo tornare a i cari vecchi fossili tornare a ragionare un pochettino di più paleontologicamente e un pochettino meno per così dire sulla semplice elaborazione di big data di big data grazie a tutti